Una famiglia in vacanza divisa tra un tramonto in riva al mare e un sentiero di montagna al limitare dei boschi. E' questa l'immagine che caratterizza la campagna promozionale che unisce Val Seriana e Val di Scalve con Cattolica, località marittima della Riviera Romagnola. Una sinergia avviata dal 2020 grazie a Vivi Ardesio e ora definitivamente allargata alle magnifiche valli con la regia di Promoserio che da anni collabora con Ardesio per potenziare questa collaborazione. Abbiamo colto con favore la proposta di Vivi Ardesio e del Comune di Ardesio di partecipare a questo progetto Cattolica 2024 che consente una collaborazione col Comune di Cattolica e con la Val Seriana e la Val di Scalve. E' proprio il nostro intento che abbiamo voluto fin da subito come CDA andare a promuovere la nostra valle fuori dal nostro territorio. Quindi andare a Cattolica con le azioni che metteremo in atto ci consentirà di poter andare a agire su quelle persone che comunque risiedono in zone intorno alla provincia di Bergamo per poterle portare in valle a visitare il nostro territorio e le nostre magnifiche valli. Le iniziative messe in campo per il 2024 prevedono anzitutto la campagna pubblicitaria con affissioni condivise a Cattolica e in Bergamasca affiancata da campagne social. Promoserio sta inoltre strutturando per il terzo anno consecutivo pacchetti turistici in accordo con strutture ricettive e operatori del territorio da promuovere su oltre 10.000 tovagliette che verranno utilizzate nei chioschi della località balneare. Per i turisti che d'estate soggiornano in riviera sono previste proposte di vacanza per scoprire la Val Seriana e la Val di Scalve in autunno e inverno. Ringrazio davvero Promoserio per aver colto e voler portare avanti questa sinergia con questa località davvero così importante. Come abbiamo detto cercare di colpire e farci conoscere dai turisti che frequentano la località marittima di Cattolica durante questa stagione estiva ci permetterà poi di ricavare turismo per i nostri territori. Ringrazio il Vice Sindaco e Assessore al Turismo di Cattolica Alessandro Belluzzi perché davvero è anche grazie a lui se riusciamo a portare avanti questa iniziativa quindi un ringraziamento particolare. Vi invito sin da ora il 13 di aprile ad Ardesio perché ci saranno i bagnini di Cattolica che ci regaleranno, offriranno a noi la possibilità di assaggiare il loro pesce quindi verranno da noi, sono venuti anche l'anno scorso, hanno deciso di portare avanti anche questa iniziativa ancora con noi e quindi l'invito è per tutti il 13 di aprile alle 17 presso l'oratorio di Ardesio. E come ultimo diciamo iniziativa ma è una cosa molto importante perché quest'anno sono ben 11 le amministrazioni comunali che porteranno al mare, al mare di Cattolica i loro anziani quindi nella settimana dal 26 maggio al 2 giugno per 11 comuni della valle ci sarà la possibilità di far soggiornare ad un prezzo calmierato, ad un prezzo convenzionato delle nostre persone e a Cattolica e quindi davvero un'iniziativa che va avanti, va avanti in modo importante non coinvolge solamente i vari assessorati del turismo ma anche quelli che riguardano il mondo dei servizi sociali e quindi avanti così.